Lo strillone, la candina parlante del nuovo giornale. Nell'edizione di questa settimana, acquistabile sia in copia cartacea che online tramite QR code, Perché si lascia la parrocchia? È una delle domande poste a 360 giovani in una ricerca compiuta da un gruppo di studenti dell'Università Cattolica. È la nuova edizione del progetto Dal Business all'Anima, che aiuta a mettere a fuoco, nel tempo del sinodo, che cose i giovani chiedono alla Chiesa. La realtà non lascia mai indifferente chi è mosso dalla fede, anche quando ne emergono le difficoltà. Trent'anni dopo l'assedio di Sarajevo, ecco l'aggressione a Kiev e all'Ucraina, spiega il cardinal Pulic. Ma lo sguardo al passato aiuta a vivere il presente. Dai tesori d'Oriente, con la bellezza delle icone spiegate dal giornalista Alfredo Tradigo, allo spettacolo sulla cattedrale con la compagnia Exire. Dai nuovi nati, nelle famiglie legate a Ferriere, all'imminente pellegrinaggio della diocesi a Lourdes. Il Vescovo ricorda il suo primo viaggio al santuario. Avevo 17 anni. Le persone, ancora prima della guarigione, chiedevano il miracolo della fede. Avevo 18 anni. Avevo 22 anni. Avevo 17 anni. Avevo 27 anni. Grazie a tutti.